Create un sito web bello e moderno per la vostra associazione. Con Clubdesk è così semplice che non serve nemmeno un web designer per farlo. I modelli di layout, che controllano non solo la grafica ma anche la navigazione, vi aiutano a creare il vostro sito web. E poi che il sito è completamente integrato nel sistema di gestione del Club, è sempre aggiornato e visualizza automaticamente i contatti attuali dell'associazione, gli appuntamenti e molto altro. Naturalmente, il sito web è compatibile con i dispositivi mobili, per cui viene visualizzato in modo ottimale anche su tablet e telefoni cellulari. Per creare una nuova home page, selezionare il modulo sito web qui in alto. Cliccate quindi su un nuovo sito web e scegliete un modello che si avvicini il più possibile a quello desiderato in termini di aspetto e navigazione. Potete poi adattare questo modello alle vostre esigenze. Ad esempio, è sufficiente sostituire tutti i colori utilizzati con quelli del proprio Club. Se lo desiderate, potete definire in dettaglio l'aspetto di un pulsante o di un titolo. Scegliete un carattere e un colore diverso per il titolo 1. In questo modo, ogni sito web è unico e si adatta perfettamente alla vostra associazione. Sul lato sinistro, potete vedere la struttura del sito web creata da Clubdesk, che è già un buon modello per il vostro club. Ora aggiungete nuove pagine a vostro piacimento, o eliminate quelle che non vi servono. Tutto ciò che viene adattato alla struttura viene automaticamente aggiornato nella navigazione. Anche la modifica del contenuto delle pagine è molto semplice. Scrivere un testo direttamente nell'anteprima è estremamente pratico, perché il risultato è immediatamente visibile sulla pagina web. Per inserire un blocco di contenuti, ad esempio un filmato di YouTube, fate clic qui sull'icona corrispondente sul lato sinistro e trascinatelo nella posizione desiderata. Clubdesk mostrerà chiaramente dove è possibile utilizzare il blocco. Aggiungete l'URL del filmato e la vostra home page conterrà già il filmato desiderato. L'organizzazione dei diversi blocchi di contenuto è molto semplice. Trascinate i blocchi nella posizione desiderata e regolate la larghezza direttamente con il mouse. Clubdesk offre una serie di altri blocchi di contenuto, ad esempio per un carosello di immagini, una mappa di Google e molto altro. Ora aggiungeremo un elenco di contatti per pubblicare il comitato. Per prima cosa scegliete chi volete visualizzare utilizzando i gruppi nella gestione dei membri. Poi decidete in basso quali informazioni volete mostrare, ad esempio tre persone per riga. L'elenco del comitato apparirà quindi sul sito web, secondo le impostazioni scelte, ad esempio come segue. È altrettanto facile creare moduli online o pubblicare elenchi di appuntamenti che visualizzano solo date specifiche e si aggiornano automaticamente. Naturalmente, potete rendere il vostro sito una vera e propria scoperta per tutti i visitatori grazie a speciali effetti grafici, ad esempio ingrandendo le immagini o utilizzando un effetto di parallasse. In Clubdesk potete creare un'area interna accessibile solo ai soci. Il tutto con un solo clic. La vostra home page è collegata alla gestione dei soci, in modo da sapere chi è socio e chi no. Se lo desiderate, i soci possono consultare il loro diario personale, leggere le notizie interne o trovare il numero di telefono della cassa, ovviamente sul loro cellulare. Attualmente, diverse migliaia di Club utilizzano già un home page creata con Clubdesk.